Raga, c'è Allegri a casa, si sta fonsegando a due mani, a due mani si sta fonsegando a vedere questa squadra qua perché dimmi quello che vuoi, David dimmi quello che vuoi, ma quest'anno non ci avete scuse col calciomercato che ha fatto la Juventus, visto quello che avete detto Allegri dovete vincere il campionato, no? Perché molti di voi l'anno scorso, tu compreso, tu compreso David perché i video non si dimenticano, non si cancellano, dicevi che con un altro allenatore e con quella squadra bisognava vincere il campionato, quest'anno con quella squadra i 200 e passa milioni di spesi che dovrete far? Dovreste dominarlo il campionato, David? Ah beh, allora diciamo le cose con serietà la Juventus è un campiere aperto perché ovviamente avendo fatto tutto questo mercato e avendo cambiato tanto con un nuovo allenatore ha bisogno del suo tempo perché è così, però ti aspetti molto di più quando una società investe tanto quindi Tiago io ti reputo un grandissimo allenatore ma sei sotto esame perché non puoi se con la Roma nonostante non hai giocato a calcio un pareggio ci sta anche se giocati in casa ci sta pareggiare contro l'Empoli non ci sta neanche un po' perché queste partite se hai l'ambizione di vincere il campionato le devi vincere gli devi aprire la testa Doc! Ti stiamo per venire a prendere Doc! Se vinciamo stasera andiamo a tre punti di distacco e comincia a tremare dopo io non mi esalto se vinco stasera col Venezia non mi esalto quelle partite qua tu devi vincerle però è così, è così Doc ti sei esaltato per le prime due partite cantavate la capolista se ne va e invece ci avete tanto da lavorare anche voi anche voi lavorare lavorare perché? perché non è facile qua c'è solo l'Inter io l'ho già detto l'Inter ha la stessa squadra con lo stesso allenatore non deve lavorare niente noi dobbiamo lavorare mi sa che se c'è una squadra forse forse che può competere all'Inter non siamo né noi né voi ma forse il Napoli ma solo perché non ha le coppe tutto il resto bisogna lavorare creare un gruppo per l'anno prossimo perché quest'anno mi sa che se giocate così la vedo dura anche per voi poi noi quattro ci arrivate perché avete uno squadrone io non mi rimangio il fatto che la Juve ha uno squadrone però ci vorrà probabilmente il suo tempo raga sempre forza mia e cerchiamo di vincere stasera grazie a tutti